Siamo alla conferenza pre-IFA e Philips debutta nel mercato delle videocamere, nelle pocket cam. La nuova gamma si chiamerà EASY e include quattro modelli, a partire da quello che stiamo avendo ora, un modello molto semplice, da 5 megapixel in grado di registrare in alta definizione, fino a 720p, quindi non full HD. Saranno molto semplici, point and shoot, quindi basta premere un pulsante per iniziare la registrazione. Ci sarà anche un modello più ragged, quindi resistente agli urti, resistente all'acqua, ideale per chi fa sport sulla spiaggia o sulla neve, questo registra già in full HD, 1080p, sempre stesso formato di registrazione anche per quest'altro modello da 8 megapixel. Questi ovviamente sono ancora dei mock-up, quindi non sono prodotti definitivi, ma Philips si assicura che dovrebbero arrivare all'incirca in maggio. C'è anche un modello con LCD pieghevole, quindi impugnatura molto comoda. Integra anche la pre-registrazione, quindi il momento in cui apriamo lo schermo e accendiamo la macchina, inizia a registrare e dal momento in cui premiamo il pulsante di registrazione, includerà nella nostra registrazione i 3 secondi precedenti, in modo che non ci perderemo neanche un istante. tutte le camere hanno anche una porta USB integrata, di modo che sia più facile collegarle al computer e condividere i propri filmati. Avremo anche una versione WiFi che però sarà disponibile in settembre quando ci sarà IPA. La registrazione come vediamo avverrà anche su microSD, quindi non SD complete ma microSD con possibilità anche di rivedere i propri filmati sullo schermo grazie alla porta HDMI. Grazie.